buonasera buonasera signori ci siamo anche oggi ci siamo anche oggi numero 8 8 for the memes è musica maestro anno 1946 titolo originale make my music allora da dove potrei partire è molto interessante perché in realtà su questo film ci sono a dire più cose di quanto mi aspettassi dato che dopo averlo visto due volte ho avuto un attimo di dubbi su alcune cosette e wikipedia un po' dissipate i miei dubbi ma procediamo con ordine cosa è musica maestro musica maestro è un po come l'ho definito io per tutta la durata è un fantasia che ci ha creduto di meno ma comunque c'è da considerare che all'epoca essendo periodo di guerra e tutto quanto anche se il 46 era finita da poco ma c'era comunque molti problemi lo staff di walt disney molte persone sono state chiamate a combattere nell'esercito e quindi non erano rimasti in tanti ad animare quindi walt non poteva permettersi di fare dei film veri e propri quindi esattamente come è successo per fantasia ha deciso di fare sei film che sono raccolte di episodi vari tutti in un solo film soltanto che a differenza di fantasia questi durano un'ora invece che tre ma fantasia fu un progetto troppo ambizioso di cui abbiamo già parlato e saluto su amico se tre caballeros fanno parte di questa di questo gruppo di sei lungometraggi fatti da piccoli cortometraggi quindi stavo per dire lo scrigno dalle sette pelle ma quello un altro musica maestro è il terzo di questa stile rata se mi ricordo bene l'ordine si è il terzo quindi è tostina a partire anche da quale due doppiaggi è migliore perché in italiano alcune cose sono state cambiate e stessa cosa anche per la versione originale anche la versione originale subì un sacco di censure cioè un sacco no ma un bel po' di cosette vengono censurate a partire da il primo corto musica maestro sono dieci episodi musicali il primo che cito i titoli italiani i testoni e i cuti cagna che è a della breve una storia di due famiglie che si fanno le faide a vicenda e tutti muoiono e i discendenti di queste due famiglie uno uomo e una donna si mettono assieme vivono tutti quanti felici ma poi dopo i matrimoni sono tutti andati a litigare ed è una metafora su come perpetuino le faide delle loro famiglie precedenti ora questo corto all'inizio è stato allucinante è stato allucinante all'inizio questo corto perché in italiano è stato doppiato in una maniera stranissima è stato doppiato in una maniera stranissima e mia madre che era lì a guardare assieme a me è stata tipo cos'è questa roba cos'è questa affare e sentire lei dire che cos'è questa affare la dice lunga ora a quanto pare ho scoperto c'è stata una cosa strana con questo corto in particolare che io l'ho messo l'ho visto va bene tutto confuso la merda tipo che cosa sta succedendo ho visto una o due scene che potrebbero essere state riprese successivamente in La Bella e la Bestia ma comunque quando ho rivisto il film in inglese mi sa che questa volta non parlerò prima di italiano e poi inglese ma li alterno quando ho rivisto la versione inglese è successa una cosa strana che io all'inizio non avevo notato nella versione inglese questo corto non c'è e io me ne sono accorto non perché sono partito direttamente dal secondo lì per lì non ci ho fatto caso ma perché finito il primo corto della versione inglese sono passato direttamente al secondo ma c'era un problema che il secondo della versione inglese era il terzo della versione italiana e poi mi sono detto perché la versione che ho scaricato in inglese non ha il corto di questa gente che si spara ebbene ho scoperto che questa cosa è successa perché a quanto pare nella versione statunitense questo corto iniziale i testoni cucatagna fatemi dire cucatagna anche se è sbagliato però mi è più facile venne rimosso dalla versione americana perché vi era fra virgolette un uso eccessivo delle armi c'era un utilizzo delle armi da fuoco che era veramente esagerato e quindi sono detti forse è bene se per i bambini non glielo facciamo vedere poi successivamente è stato reintrodotto insomma leggendo Wikipedia ho scoperto che questo film un po' ovunque ha avuto dei problemi di distribuzione ma comunque il corto numero due era le ho scritti tutti quanti mi sa che non le ho scritti tutti mi sa che non le ho scritti tutti fatemi fare CTRL SHIFT T sulla tastiera di aspetta aspetta ecco meglio ok ok fammi vedere un attimo palo del blu c'è ok ok e la palo del blu che in realtà è molto chill come episodio avevo notato un paio di disegni che mi sono detti secondo me questa roba dovrebbe prendere un pochino da fantasia questa roba deve aver preso un pochino da fantasia e non mi sono sbagliato originariamente doveva essere un corto destinato a fantasia ma non mi ricordo per quali motivi sono è stato scartato e poi aggiunto dopo il corto numero tre mi baso sull'ordine normale il corto numero tre è quando i gatti si riuniscono ora questo corto anche lui è particolare perché a parte essere molto carino musicalmente parlando se metti la versione originale sono tutti perfettamente ascoltabili la versione italiana un pochino perde quindi forse consiglio la versione inglese quando i gatti si riuniscono come lo dico provo a cercare un attimo wikipedia ok è probabilmente un corto in cui mostra gli adolescenti degli anni 40 che vengono trascinati nella popular music quindi insomma vedete contratto un po' caratteristici un po' fumettisti molto più fumettistici che a cartone animato queste generazioni giovani degli anni 40 che si approcciano al mondo della musica e fanno tutti quanti festini per ballare però non i festini che vi immaginereste nelle casette americane che vediamo tutti ora proprio uscire nei locali e ballare quel jukebox e tutta roba figa e nella versione italiana c'è una voce narrante all'inizio che spiega un attimino delle cose e così via nella versione inglese non c'è nella versione inglese non c'è questa spiegazione iniziale e mi sono detto sicuramente sarà perché dovranno spiegare per il popolo italiano di che cosa parla perché un popolo italiano magari se glielo metti così schiaffato e fine dice carino ma non ho capito un cazzo e quindi la vedo una cosa un pochino giusta e tra l'altro ho scoperto leggendo wikipedia che nella versione italiana è stata rimossa la parte finale della canzone io tipo non ci ho fatto minimamente caso e ho letto da wikipedia che la versione originale doveva avere anche una scena un pochino lewd con una tipa che aveva tipo le zinne di fuori che indovinate qual è l'unico paese in cui questa scena non è stata censurata esatto amici il nostro caro Giappone insomma continuiamo il corto successivo è senza te e niente su di lui non ho nulla da dire anche perché così a memoria mi viene in mente quale sia poi c'è Casey at the bat Casey at the bat è carino perché è un corto su una partita di baseball con tutti i giocatori che non sanno fare un cazzo ma poi arriva il figo fa tutto il figo adesso si può vincere e poi finisce e anche lui sbaglia perdono miseramente aperta parentesi per anni ho creduto si dicesse miserabilmente ma va bene e perde miseramente facendo schifo e disperandosi e incazzandosi però c'è una cosa strana che è arrivato a questo corto qua con la versione italiana era in inglese e io lì per lì mi sono chiesto ma non è che per qualche strano motivo ho tipo saltato direttamente la versione inglese e ripartito da lì cosa cazzo è successo no a quanto pare questo è successo perché nella versione italiana originale questo corto particolare Casey at the bat venne rimosso perché all'epoca quando uscì il film in Italia la popolazione letteralmente non sapeva che cosa fosse il baseball e quindi giustamente hanno detto sai cosa si taglia la testa al toro e lo scartiamo immediata subito e quindi nulla quindi nulla ho scoperto perché era in inglese e c'è qualcosa altro che ho da dire ok no su di lui abbiamo finito dopo che Casey at the bat c'è due silhouette niente due silhouette è un coso abbastanza carino sdolcinatino della coppietta che balla però le vedi soltanto a silhouette quindi non vedi i dettagli vedi solo le sagome di queste due persone e io alla prima visione ho notato subito che i movimenti erano un po' troppo fluidi erano un po' troppo perfetti per essere disegni e mi sono detto possibile che questi non siano disegni ma siano due attori perché i movimenti mi sembrano troppo strani per essere disegnati e porca troia ci ho dato porca troia ci ho dato erano effettivamente attori e c'era infatti una specie di tecnica no in italiano dice vedo i ballerini live action ma c'era una tecnica come lo dice wikipedia in inglese aspettate il rotoscopio avevano usato il rotoscopio che così a memoria non mi ricordo che cosa sia ma so di averlo letto quando feci la tesina sui cartoni animati e nulla molto carino molto simpatico poi c'è ah vabbè c'è come lo dico non mi viene in tenne insomma c'è Pierino il lupo la storia di Pierino il lupo fatta dalla Disney che ho trovato molto molto carina mi ricordo ancora com'è la storia originale più o meno e non mi sembrava che ci fossero grandi sconvolgimenti di trama vabbè per quanto semplice possa sembrare forse nella storia originale l'anatra veniva mangiata dal lupo e fine non è che c'era il finale bonista no in realtà non è morta si era nascosta eccetera vabbè ma sai Disney la deve fare cucciolosa cucciolosa anche perché Sonia Sonia doveva vivere e niente vabbè i nomi dei personaggi in Pierino il lupo a parte il bambino che è Peter sono russi ma quello perché penso che Pierino il lupo se non ricordo male fosse una fiaba russa se non ricordo male e niente è molto carina l'ho trovata molto simpatica nulla di degno veramente di nota ma comunque è molto molto carina e simpatica poi c'è dov'è After You're Gone aspetta ah After You're Gone è bellino After You're Gone aspetta titolo italiano ah proprio il titolo italiano è anche così anche in italiano ok perfetto niente questo è un corto carino di un quartetto Goodman e niente purtroppo è molto breve purtroppo è veramente breve avrei voluto durarsi di più e quando io l'ho visto mi sono detto cazzo questa è la roba che volevo vedere fa molto fantasy io sono una persona che se me li fate bene io adoro tutti i video di metamorfosi strane di robe che si trasformano in altre cose se è fatto bene io adoro queste cose è un po' come le metamorfosi di fantasia le metamorfosi delle prime silly symphonies è molto bello è molto bello insomma io vi consiglio di vederlo se lo riuscite a trovare anche separato tanto anche separato è molto molto carino da vedere e niente sono ovviamente questo quartetto che suona però i protagonisti del corto sono questi strumenti musicali antropomorfizzati più o meno perché sai Disney era un furri gli piaceva antropomorfizzare ogni cosa anche gli oggetti e niente è molto carino vederli muoversi fare le cosette alcune cose sono delle trovate veramente veramente simpatiche stessa cosa per Pierino e Lupo anche lì c'è mi sono scordato di dirlo c'è una chicca molto simpatica che io ho apprezzato che quando vedi lo spartito che abbina gli strumenti musicali ai personaggi a quello del gatto ai posti delle note ci sono le zampe ci sono i segni delle zampe ed è una cosa veramente carina mentre in quello del quartetto Goodman niente è tutto molto carino ci sono le metamorfosi di oggetti che sono veramente veramente belle sono a meraviglia per gli occhi poi c'è un corto che è l'unico che io conoscevo già e quello lì devo sicuramente averlo visto in una raccolta di videocassette di episodi dove c'è raccolte di Disney a caso tipo oh senti Walt abbiamo da vendere da guadagnare un pochino cosa si fa? vabbè fa una cassetta mettici 15 dei corti che ho fatto io e si guadagni tanto la gente lo compra perché c'è scritto Walt Disney e niente lì ho visto Gianni di Feltro e Alice di Paglia Gianni di Feltro e Alice di Paglia è l'unico che ricordavo di aver visto a bambino ed è la storia di questi due cappelli che si innamorano però lei viene comprata nel negozio e anche lui viene comprato da un'altra persona e si separano e tutta questa storia è la storia di Gianni di Feltro non mi ricordo il nome originale ma l'ho sentito Gianni Fedora Gianni Fedora perché lui è una Fedora che cerca di ritrovare lei di rimettersi con lei viene trattato di merda gli succedono le peggio cose ma alla fine si rincontrano tutti felici e contenti e niente non ho molto a dire perché anche da bambino quel corto non mi aveva entusiasmato granché e il doppiaggio italiano per quanto sia ascoltabile non rende giustizia alle voci originali mi sa che episodi così corti musicali come questi anche se li doppi estremamente bene anche se li doppi e li adatti veramente bene non saranno mai all'altezza degli originali credo che non saranno mai all'altezza degli originali e poi c'è l'ultimo c'è l'ultimo colto colto c'è l'ultimo colto corto che è la balena che voleva cantare all'opera e questo è l'unico di cui avevo visto qualche cosetta a giro ma non avevo mai visto l'episodio in sé cioè per dire non avevo nemmeno visto delle clip avevo visto solo delle immagini di questa balena vestita in maniera figa che cantava a teatro e credo sia la scena più iconica di musica maestro e niente questa storia vede ok sì ok questa ve la dico molto breve è la storia di questa balena che ha tre ugole e può cantare non fatevi domande Disney si faceva di cose strane è la storia di questa balena che ha tre ugole e può cantare in una maniera veramente sublime e perfetta è una meraviglia del mondo e c'è questo impresario che si amava tetto tatti 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 credo in inglese ha un doppiaggio palesemente italianissimo tipo mamma mia e insomma arriviamo a quei livelli però sai giustamente ho sentito rumori strani ma va bene forse è meglio se rimango in salotto e non mi sposto in cucina niente questo impresario vuole cacciare quella balena perché pensa che abbia mangiato un cantante d'opera soltanto che quando arriva lì i tre i tre arpionieri i tre della barca che sarebbero incaricati di ammazzare la balena rimangono estasiati rimangono convolte ed estasiati dal suo canto figaro 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 insomma onestamente vi consiglio di guardarlo per un dettaglio che vi dirò fra poco un dettaglio veramente veramente figo che vi dirò fra poco e nulla tutto molto figo tutto molto bello e niente il pretesto è sentire questa balena cantare delle cose incredibili non vi dico come finisce perché è finalmente il gran finale del film vi dico che ha un finale che dovete vedere e insomma il dettaglio molto più particolare su questo specifico corto della balena che voleva cantare a teatro è che ora in italiano purtroppo no in italiano non hanno potuto mantenere la cosa perché era estremamente difficile ma in inglese il doppiatore che è Nelson Eddy questo Nelson Eddy in inglese in questo corto ha fatto tutte le voci tutte da solo voi provate a immaginare va bene le voci parlate sono normali ma le voci cantate le ha fatte tutte lui e non non so se le ha fatte tutte quante assieme perché a una certa la balena canta con tre toni di voce diversi tipo usa tutte e tre le ugole insieme quindi alto baritono e basso non mi ricordo i termini tecnici passatemi lì ma i toni di voce basso medio e alto che li canta tutti e tre assieme e io non so se questo nostro caro Eddy abbia effettivamente cantato queste tre voci tutte assieme o se le abbia fatte tipo separate e poi le hanno sovrapposte ma se le ha fatte tutte e tre assieme veramente complimentoni io vi consiglio di vederle intanto in realtà penso che la voce della balena che penso che in inglese si chiama willy ma mi sembra che in italiano sia stato chiamato gianni gianni sì scelte italiane signori credo che anche in italiano la voce di gianni sia stata tenuta la stessa perché alla fine canta e basta quindi mi sa che la voce di gianni potete comunque apprezzarla in italiano come in originale credo che cioè questo film in italiano è stato fatto 50-50 però onestamente se devo essere sincero vi consiglio di vederlo in inglese anche perché alla fin fine il primo corto quello dei testoni dei cucatagna non è tutta questa gran cosa quindi invece che un'ora e un quarto vi può durare un'ora e sette il film e nulla nulla musica maestro non è il top è un fantasia che ci ha creduto di meno ma tuttavia non sconsiglio di vederlo tutto sommato considero che sia simpatico da vedere forse magari qualche corto potrebbe essere tagliato per dire per dire lo finisco prima ce ne sono uno o due che non sono niente di che però qualcuno è simpatico onestamente gli unici che consiglio di saltare perché non sanno di nulla o meglio sono i meno sono quali caseat tutto qua tutto qua e non ho altro da dire mio dio ho parlato per 21 minuti più del film dell'altra sera più dei tre cavalleros sono effettivamente sorpreso sono effettivamente sorpreso non pensavo di parlare così tanto ho visto l'ado 17 minuti e gli ho detto ora finisco verrà un video raccolta di youtube estremamente lungo sono proprio curioso di vedere chi se lo vedrà commentate topolino fa schifo se siete arrivati fino a qui e niente e niente il prossimo in lista è bongo e tre avventurieri bongo e tre avventurieri forse ho visto qualcosa ma vedremo quindi per stasera la mia recensione è finita la vostra tortura è finita il vostro scartavetramento di suddetti organi genitali maschili che tengono il piscio perché sappiamo che the pee is stored in the balls direi che per stasera abbiamo fatto fattissimo sniffate di colla vinilica